Ho voluto collegare il presepio di quest'anno alla situazione davvero tragica e di grande amarezza che stiamo vivendo e soprattutto questa cattiveria, questa espulsione, questi campi distrutti con le luspe, questi porti chiusi, gente abbandonata per le strade. Io penso che non può lasciare indifferenti noi cristiani, che nel Natale vediamo proprio un Dio che si fa scarto, che si fa marginalità, nasce in un rifugio di fortuna e mi sembra davvero inopportuno quest'anno dare a Natale solo questa parte, questa cartesia di poesia, di tenerezza, quando non c'è nessuna poesia in qualcuno che è abbandonato da solo per la strada o nasce in un tugurio come è nato Gesù. Quindi è un invito soprattutto a noi cristiani a celebrare la bellezza del Natale non solo nella sua poesia ma anche nella bellezza di un incontro con Gesù fatto nelle persone più abbandonate e marginate. Gesù è nella spazzatura che nasce e lì aspetta un nostro gesto di tenerezza, un nostro sguardo, perché il Natale sia meno ipocrita e sia anche più bello per noi.